Ennesimo successo per la compagnia Bobo Chanel, venerdì e sabato sold out al teatro civico di Sassari per il debutto del nuovo spettacolo Keep Calm. L'intricata ed esilarante vicenda dei due bizzarri commessi della Guia Kelly Creation Corporation, originale commedia a tinte noir, ha coinvolto il pubblico dal teatro con una storia ricca di stereotipi del mondo del fashion style. Prendi una Milano asservita alla moda fino alla devozione, frenetica e isterica, il cui calendario è scandito dalle settimane della moda e dalla rincorsa i saldi delle grandi griff. Il mix è un cocktail dal sapore estivo, davvero restando attenti a non soffocare per le tante risate che l'esilarante testo scritto da Daniele Coni e interpretato dagli attori della compagnia Bobo Chanel scatena in platea. Surreale, stereotipi e possibile si mescolano per una vicenda che si intreccia col cinismo dei due protagonisti, i commessi interpretati dallo stesso Daniele Coni e da Fabio Cicchiello, asserviti al sistema del business della moda e vittime dei suoi stessi meccanismi. L'ispettrice Clelia Fenner, interpretata dalla bravissima Laura Calvia, un incrocio tra Lady Macbeth e un conte Dracula in taillère, drogata dai due cinici addetti vendite con diverse compresse di MDMA, rappresentano il fulcro della commedia, in cui ruotano i diversi esilaranti personaggi, dal cugino, dalle visibili dotte interpretato da Roberto Fara, alla sessuologa Valentina Sanna, con la sua bambola gonfiabile, insostituibile compagna di scena. Tutti bravi, gli interpreti, ritmo e divertimento hanno sostenuto il palco con un testo originale che ha divertito il pubblico nelle due serate. Una compagnia teatrale, quella di Bobo Chanel, che scrive, produce e interpreta con propri mezzi spettacoli di qualità sia nei testi che nell'interpretazione. Meriterebbe più attenzione sulla scena sarda e non solo.